La nostra idea consiste nel utilizzare un rilevatore di pressione per permettere principalmente il controllo del computer a persone con disabilità. Infatti abbiamo realizzato un prototipo di gioco per bambini per correggere questi difetti del linguaggio attraverso giochi di aspirazione e soffio. Noi abbiamo pensato all'applicazione della nostra soluzione anche in processi produttivi che possono essere rumorosi impiegando questo dispositivo per attivare dei macchinari piuttosto che per implementare sistemi di sicurezza. L'ultimo ambito di applicazione ricade ancora una volta sull'aspetto della disabilità motoria, in particolar modo stavolta nell'ambito ospedaliero per implementare dei meccanismi in grado di permettere a persone con capacità motorie limitate, anche temporanee, per esempio a seguito di un incidente in ospedale, di richiedere assistenza. Il messaggio che vogliamo lasciare è di pensare a loro, noi ci abbiamo pensato. Il messaggio che vogliamo lasciare a loro, noi ci abbiamo pensato.